Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, particolarmente interessante perché un'intensa perturbazione raggiunge l'Italia e riporta la neve, guardate tutti questi simboli bianchi sul nord Italia, nevicate anche in pianura, perturbazione che scaverà anche un centro di bassa pressione proprio sul nostro paese, in effetti se controlliamo la previsione della nuvolosità attesa sull'Italia si vede bene questo nuovo sistema nuvoloso, perturbazione ben organizzata che attraverserà un po' tutto il paese, inizialmente il nord e il Tirreno ma poi giovedì si muoverà anche verso il centro-sud, precipitazioni e attenzione alle macchie bianche che indicano appunto la neve, neve in arrivo anche in pianura al nord ovest ma nevicate fino a quote molto basse anche al nord-est e acquazioni temporali sul versante tirenico, insomma un mercoledì delicato in molte zone dell'Italia, soprattutto diciamo nelle regioni settentrionali e in particolare su quelle di nord ovest lo vediamo dalla previsione con la neve fino in pianura, Piemonte, Lombardia, Emilio Occidentale anche nell'entroterra Ligure, nevicate a quote molto basse pure sulle regioni di nord-est e qualche fiocco anche sull'Appennino settentrionale. Invece piogge principalmente sull'Alto Adriatico e piogge sul Medio Alto Tireno anche sotto forma di temporale tra pomeriggio e sera, poi a fine giornata peggiora pure sul Medio Adriatico e giovedì al sud, per i dettagli comunque sulle vostre località vista la situazione scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.